Ma che eleganza, è un uomo chic, sei diventato? Insomma dai, non è la prima volta che mi vedi qui Su di me è molto trasgressivo tutto ciò, ecco Esatto, che cos'è lo chic secondo te? Sta per? Non lo so, non lo so, non me ne curo Mi piace...